cari amici di youtube ben ritornati sul mio canale con un nuovo video oggi parliamo di tappeti erbosi e oggi trattiamo un argomento che spesso ci si trova ad affrontare durante l'inverno ossia l'ingiallimento del tappeto erboso parliamo di microterme in questo caso perché diciamo che sono i tappeti sempreverdi coloro che dovrebbero rimanere sempreverdi anche durante l'inverno quindi escludiamo le macroterme che vanno in riposo vegetativo nelle microterme spesso accade di trovare comunque ingiallimenti durante l'inverno l'ingiallimento del tappeto erboso durante l'inverno di per sé non è preoccupante ovviamente dipende anche da che specie abbiamo ad esempio una festucca rundinacea durante l'inverno tende ad ingiallire poi ci sono diversi fattori ora vi spiego bene parto col dirvi che la festucca è tra le microterme diciamo la più macroterma ossia tende durante la stagione invernale sotto determinate temperature ovviamente ad arrestare la crescita e ad ingiallirsi quindi la foglia diventa proprio gialla addirittura anche bianca in alcune in alcune occasioni e rimane così poi per tutto l'inverno questo evento qua non è altro che l'abbassarsi delle temperature e quindi comunque la foglia perde un po' di pigmentazione e ingiallisce quindi se noi in quel momento lì andassimo a concimare con un concime azotato non accadrebbe quasi nulla anzi rischieremo poi l'insorgere di malattie fungine laddove si presentassero condizioni climatiche ideali quindi in quel caso conviene lasciare il tappeto erboso così e portarselo poi per la primavera lo so che non è bello da vedersi però ci dobbiamo anche accontentare e lasciar fare quel percorso vegetativo alla pianta poi ovviamente ci sono le eccezioni adesso da poco la mia festucca presentava parecchia ruggine perché perché era in carenza di azoto la ruggine è un fungo comunque spesso si manifesta per la carenza di azoto quasi manifestata per la carenza di azoto perché perché le temperature sono ancora buone la festuca sta vegetando sta consumando le sostanze nutritive nel terreno probabilmente ne vuole altre perché le giornate sono molto belle e quindi non si è arrestata quindi se io adesso dovessi concimare anche con un concime ad esempio azotato a pronta cessione un nitrato di ammonio risolverei questo problema nell'immediato se ovviamente ci fosse molto freddo io avessi della ruggine eviterei di concimare magari fare un trattamento per la ruggine e la lascerei così male non fa non succede niente anche se è brutta da vedere e poi ci sono le malattie fungine l'eccesso di irrigazioni oppure l'eccesso più che altro di precipitazioni che porta comunque ad avere il terreno sempre diciamo zuppo di acqua e quindi c'è un po di marciume ci sono un po di zone che magari tendono a essere sommerse dall'acqua quindi il prato si rovina quindi diciamo che bisogna capire bene innanzitutto il perché c'è questo ingiallimento spesso quando mi dite ciao luigi perché ho il prato giallo è difficile capire perché prato giallo può vuol dire tutto può vuol dire niente spesso magari anche il nutrimento che abbiamo che abbiamo dato prima dell'inverno è stato dilavato non è stato assorbito bene perché il terreno è asfittico e comunque queste sostanze non sono state poi assimilate dal tappeto erboso quindi badate bene sempre e cercate di capire sul perché il tappeto erboso diventa giallo ad esempio qua io molti ciuffi gialli ed è il normal ciclo biologico del tappeto erboso ok io faccio così vedete mi rimangono comunque delle foglie gialle secche perché comunque il tappeto erboso perde le sue foglie e ne rigenera nuove quindi è anche normale che accada questo quindi non allarmiamoci non partiamo subito col fungicida o partiamo subito con il concime perché poi magari rischiamo di fare danni più di quel che c'è magari nel tappeto erboso che altro dirvi magari cercate anche tramite le foto anche tramite i video di capire se si tratta di ruggine o se si tratta del normale ingiallimento del tappeto erboso trovate comunque tutti i video nel mio canale vi invito a vederli ve li metto anche qua a fine video con questo è tutto spero di essere stato utile era un breve video giusto per chiarire i vostri dubbi vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanella per le notifiche in modo da rimanere sempre aggiornati poi se volete pagina facebook instagram green house italia e vi aspetto alla prossima ciao